LUMOS Il mio ultimo acquisti manga risale a marzo e credo sia giunta l'ora di spiegarvi il perché Bentornati sul canale, mi è arrivato questo pacchetto da mondadori che adesso andremo ad abboxare insieme Volevo un attimo con questo video parlarvi di quello che leggo abitualmente e ovviamente ci inserirò anche i manga Prima di cominciare però vi chiedo di supportare il canale con l'iscrizione e con un pollicione all'insù a questo video, grazie Come ho detto nell'intro non faccio un acquisti manga da marzo, ovviamente nel frattempo ho continuato ad acquistare manga Ma ne ho presi talmente tanti che mi è passata la voglia di fare gli acquisti manga Vi spiego meglio, secondo me fare un video acquisti manga ha senso fino a quando uno acquista una, non dico grossa mole ma comunque parecchi numeri manga Ed ero arrivato al punto di acquistare ogni mese diversi numeri 1 quindi diverse novità manga soltanto per mostrarli qui sul canale E mi sono reso conto che acquistando sempre numeri 1 tralasciavo le serie che stavo seguendo Quindi alla fine non leggevo né una cosa né l'altra Quindi ho detto stop, ho deciso quali serie seguire, ho venduto tutto il resto che avevo acquistato O meglio ho svenduto, purtroppo E quindi adesso sto seguendo soltanto alcune serie Capite bene che se ogni mese acquisto 2-3 manga non ha più senso farci un video E quindi con l'occasione con questo unboxing scoprirete quali sono le serie manga che sto leggendo attualmente Rimanendo sempre in tema manga mi sono accorto che sullo store del Kindle ci sono diversi manga in vendita Io ovviamente leggo sul Kindle, questo è un Kindle del 2013 credo, molto vecchio, 2012 forse Però fa ancora il suo dovere, è funzionante E vedete un po' cosa è in vendita la Evergreen Edition di Dragon Ball Quindi tra i manga che ho dato via c'è anche la Full Color Edition E tra l'altro mi è dispiaciuto davvero tanto perché la Full Color è veramente una bellissima edizione di Dragon Ball Però alla fine l'anime l'ho visto, lo conosco A me interessava leggere il manga perché non l'avevo mai letto E in questa versione qui risparmio anche un po' e non ho problemi di spazio So che non è la stessa cosa avere un manga, avere il cartaceo Però tant'è, lo leggo di qui Allora, ad inizio video ho detto che vi parlerò delle mie letture in generale Per quanto riguarda fumetti e manga E vi parlo di una cosa che ho appena ripreso O meglio, non l'avevo mai cominciata più che altro Avevo preso soltanto qualche numero E sto parlando di Topolino 28 anni Tutto nasce dal fatto che ho recuperato e sistemato i Topolini che collezionava mio padre Non sono tantissimi, vanno dal 1500 al 1560 e poi qualche numero sparso più in là Quelli che ho preso io o qualche numero precedente, 1100, 1200 Ma roba sfusa così E mi è ritornata la voglia di leggere Topolino Tanto per comprare una cosa in più insomma Però è una cosa bella, mi interessa Sono 3 euro a settimana alla fine Quindi si può sostenere come spesa Questo è il numero 300 Sì, 300, sì Questo è il 3340 E poi c'è qui anche il 3341 Il 18, il 18 E niente, una piccolissima menzione anche per Topolino Beh, andiamo ad aprire questo pacchetto Allora, allora, allora C'è un manga qui sopra Lo vediamo dopo Perché c'è un'altra cosetta Sempre per quanto riguarda le mie letture fumettistiche Prima di avvicinarmi ai manga Ed è stato praticamente l'anno scorso Quindi non sono un esperto Non so praticamente nulla di manga E non lo nascondo, insomma Sono un abbo totale Gli unici fumetti che collezionavo Collezionavo Sono gli albi di Asterix Dei Lapanini Ne ho abbastanza Non tutti Perché sono 38 Calcolate che su Amazon li vendono a 11 euro Prezzo fisso sono 13 euro Quindi sono 38 Fate voi Tra l'altro il 38esimo è uscito a novembre Quindi è nuovo C'era l'occasione su Mondadori Era in sconto E una cosa nuovissima Perché è uscita a novembre Credo sia stato presentato al Luca Comics Ed è Generazione Asterix Non è un fumetto Ma è una Appunto c'è scritto qui Un'antologia di omaggi Asterix ha compiuto 60 anni Quest'anno Questo è praticamente un albo celebrativo In pratica diversi artisti da tutto il mondo Hanno dato Hanno disegnato la loro versione di Asterix E sono stati raccolti in questo albo Prezzo fisso Sì 60 euro 60 anni 20 euro L'ho trovato su Su Mondadori a 17 euro Credo che ci sia anche su Amazon Allo stesso prezzo Ve lo linko qui sotto Se c'è ancora Praticamente se trovo qualche illustrazione bella Ecco qui Vedete ad esempio Eric Erengul Non so se leggi così Non lo conosco Ha fatto ad esempio Questa Illustrazione qui Di Asterix e Obelix E per ogni artista C'è la sua illustrazione La trovo una cosa molto interessante comunque Perché ti fa vedere Asterix Da diversi punti di vista Ad esempio Kim Jong-ji Ha fatto quest'altra illustrazione Molto molto bella E se mi interessa Vi farò un flip through Quindi vi mostrerò Sfoglierò il libro Tutto quanto E vedrete le diverse illustrazioni Lo troverete nei prossimi giorni In pratica Se non proprio con questo video Non lo so Bene Chiudiamo la parte relativa Agli altri fumetti Che è veramente piccola Come avete visto E passiamo ai manga Cominciamo Da Volume 8 Di Made in Abyss Sono legatissimo a questo manga Perché è stato il primo che ho preso Il primo che ho comprato Il primo che ho letto E devo dirvi la verità Però sono indietrissimo Sono arrivato a leggere il volume Il numero 4 E il problema è stato che Quando ho acquistato il quinto È passato molto tempo Da quando ho letto il quarto E non mi ricordo un fico secco Quindi nel frattempo Approfittando di questa cosa Ho visto la prima stagione dell'anime E non so a che punto Arriva l'anime rispetto al manga Se lo sapete Scrivetemelo qui sotto nei commenti Comunque ne approfitterò E lo leggerò magari Nelle vacanze di Natale Lo ricoprerò fino all'ottavo Anche se sono un po' confuso O meglio sono un po' indeciso Perché credo che siamo fermi al numero 8 Anche in Giappone Quindi non si sa quando andrà avanti E sono un po' titubante su questa cosa Non vorrei che arrivo a leggere l'otto E poi passa chissà quanto tempo Non lo so Vedremo Comunque Made in Abyss Lo conoscerete già È abbastanza Anzi molto famoso E per chi non lo conoscesse Non fatevi trarre in inganno Da questi personaggi kawaii Che ci sono in copertina Perché la storia È molto molto cruda L'unica cosa L'unica accortezza Che dovete avere Se acquistate questo manga È di non lasciarlo in giro Senza sovracoperta Se lo conoscete Saprete il perché Andiamo avanti E passiamo Al numero 4 Di Demon Slayer Sinceramente Primo e secondo volume Sono andati molto molto bene Nel senso mi sono piaciuti molto Il terzo È Un po' così L'ho trovato un po' troppo confusionario C'è un po' troppa confusione Vedrò con questo numero 4 Se si risolleva un attimino Adoro alla follia Sia Tanjiro Che la sorella Nezuko Bellissimi dal punto di vista Grafico Sono fantastici Vi faccio vedere Una tavola Anzi delle tavole Senza fare spoiler Molto molto bello Anche a livello Visivo Anche questo Abbastanza famoso Quindi Non c'è bisogno Che vi dico altro E poi e poi e poi Passiamo All'ultimo manga Che ho acquistato Questo mese Sinceramente Non so quando sono usciti questi Quindi probabilmente Vi sto mostrando roba Uscita già Da un paio di mesi Non lo so Bellissima La copertina Bella 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 The Promised Neverland Numero 12 Bellissima La copertina Fantastica Che cosa non è Questo manga Bello 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 E famosissimo Lo conoscerete già Fatemi togliere questa In ogni volume Ma che dico In ogni pagina Succede qualcosa È veramente interessante Intrigante Succedono sempre cose nuove Cose che non ti aspetti Anche E non so Per quanto riusciranno Ad andare avanti In questo modo Però per il momento Ci stanno riuscendo L'undicesimo L'undicesimo L'ho letto Diverso tempo fa Ma me lo ricordo Alla perfezione A differenza Di Made in Abyss E quindi non vedo l'ora Di leggere anche questo Bellissimo Abbiamo concluso Con l'unboxing Del pacco Che mi è arrivato Da Mondadori Ma vi faccio vedere Un'ultima cosa Anzi due Ho recuperato Finalmente Il secondo volume Di Death Shield Il manga italiano Realizzato da Mangaka 96 Luca Molinaro E disegnato da Giorgio Battisti Giorgio Manga Che trovate qui su Youtube Ancora non l'ho letto Quindi non so dirvi Assolutamente nulla Ma Il volume È aumentato Di parecchio Rispetto al primo Che è questo qui E quindi non vedo l'ora Di leggerlo Per vedere come si evolve Questa storia Devo un attimo Rileggermi anche il primo Perché non mi ricordo Tutto alla perfezione Sono passati mesi Poi rimanendo Sempre in tema Death Shield Perché parliamo sempre Dello stesso disegnatore Giorgio Battisti Ha realizzato Il suo Inktober 2019 Per chi non sapesse Cos'è un Inktober Praticamente Una sorta di challenge Nella quale L'artista Si cimenta A realizzare Un'illustrazione Per ogni giorno Di ottobre Da cui Appunto Il nome Inktober E per ogni giorno C'è un C'è un Un tema Ad esempio Vedete Il 10 E l'11 Il 10 Il tema È Pattern Lui ha Realizzato Quest'illustrazione E l'11 Invece Esno E ha realizzato Quest'altra Ma la cosa Ancora più bella È che Chi acquistava Il suo Inktober Che sinceramente Non so se è ancora in vendita Andate a informarvi Sul suo canale Giojomanga Dicevo Chi acquista Questo volume Lo riceve Schiacciato Da Giorgio E il mio Schiaccio È veramente Fantastico Guardate qui Sono io In versione Harry Potter Barra manga Bellissimo Fantastico Chissà se lo Utilizzerò Come immagine Profilo Più in là Bellissimo Se stai guardando Questo video Grazie Giorgio Grazie 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 E per questo video Abbiamo concluso qui Tutto quello che vi ho mostrato Lo trovate qui sotto Vi metto i link Per acquistarli Su Amazon E come sempre Vi chiedo di lasciare Tanti pollicioni in su Commentate Iscrivetevi Se ancora non l'avete fatto E vi do appuntamento Al prossimo video Docks Alline D khi Mi 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 Grazie a tutti.